Abbiamo già visto nel passato l'inaugurazione o attività similari diffuse sul territorio mantovano che sono un punto cruciale e fondamentale per costruire i giovani di domani. Le iniziative sono tutte molto diverse una dall'altra e coprono quelle che sono le esigenze davvero di ogni territorio. L'oltrepò mantovano è molto diverso dal resto della provincia di Mantua, dalla parte centrale piuttosto che dalla parte nord. Quindi è fondamentale che ogni territorio copra con la crescita dei giovani per acquisire professionalità diverse e venga coperto dal punto di vista della formazione. La specializzazione è fondamentale in questo territorio perché la provincia è molto diversa dal punto di vista dell'occupazione e dell'esigenza delle imprese. L'oltrepò mantovano stesso è diviso in due territori che sono complementari e diversi, il sinistra secchia con il destra secchia. Trovare la possibilità, costruire la possibilità di avere delle specializzazioni adeguate a ogni territorio è fondamentale per poi rendere aderente quelle che sono le offerte di lavoro con la domanda. L'API Industria accoglie con estremo favore questo tipo di iniziativa perché non fanno altro che avvicinare il mondo della scuola al mondo delle imprese. È importantissima la teoria, fondamentale, è avere le conoscenze tecniche ma è anche importante mettere in pratica ciò che i ragazzi studiano. Quindi accogliamo con estremo favore in quanto riteniamo un avvicinamento tra il mondo della scuola e il mondo delle imprese. In un mondo dove gli istituti tecnici sono stati tanti vituperati negli anni scorsi a favore dei licei, invece mai come in questo momento ci siamo dei ragazzi preparati anche dal punto di vista tecnico.